Con la partecipazione di Hotel Palazzo Piccolomini Sono due gezzisti italiani famosi e apprezzati. Ogni concerto della loro carriera è stato un successo, ma soprattutto sono due amici. Il pianista Dani Lorea e il violoncellista Paolo Damiani. Sabato 25 febbraio i due musicisti animeranno la seconda serata di Città Slow con l'esecuzione dei propri brani e cover di artisti famosi come De Andrè, Shiku Buarque e i Beatles. La città ospite sarà a Biategrasso con le specialità dello chef Mario Guarinoni. Appuntamento dunque alle ore 21 al resort La Penisola di Baschi con Città Slow 2012. e la 12.